Ho visto un'infanzia dove ho avuto dei momenti meravigliosi, ma immediatamente dopo venivano completamente annientati da qualcosa che mi li toglieva. Non sono mai riuscito ad apprezzare un momento di felicità troppo lungo, perché c'era un avvenimento, e normalmente era un conflitto tra me e mio padre, che mi toglieva quel momento roseo, leggero, fresco, bello.